Chi di voi non ha mai desiderato essere qualcun altro, almeno una volta nella sua vita? Ma certo che vorrei essere con qualcun'altra! Non ho detto con qualcun altro, ho detto essere qualcun altro. Ah bene, allora vorrei essere il bonizzo di Barbara D'Urso! Barbara, per piacere, viene a prendertelo. Dicevamo, non avete mai desiderato di assomigliare al vostro beniamino del cuore o di essere per un giorno la diva del momento? Che ne so, Jennifer Lopez! Bene, oggi vi mostrerò come realizzare un make-up look dedicato proprio a lei, la grande, la unica Jennifer Lopez! Ma che palle! E vabbè, nell'isappunto del pubblico in casa e con la promessa di realizzare un make-up look dedicato alla Barbara Nazionale, preparate gli attrezzi, che si comincia! Grazie a tutti! 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 tutto adie o ho già detto che i biglietti per barbara d'urso non ce li abbiamo